Nel quartiere Rancitali di Vescara proseguono i lavori del rifacimento delle facciate delle palazzine dell'Ater a Tigua e le tre torri demolite in Vialago di Borgiano. Entro il 18 ottobre prossimo, assicurano i tecnici dell'Ater, l'azienda territoriale per l'edilizia pubblica, saranno ultimate le ultime quattro. Abbiamo realizzato per prima cosa la rete fognaria che dava problemi alle utenze rimaste. Oggi stanno sistemando le facciate e per il 18 ottobre dovrebbero essere finite tutte le facciate interessate alla demolizione. Pisani, l'abbattimento delle palazzine ha lasciato un vuoto urbano. Che cosa è previsto in quell'area? Allora, nell'area è prevista una realizzazione di una piazza. La piazza verrà eseguita e progettata dal comune di Pescara, d'altronde hanno già eseguito e approvato il progetto definitivo e appena hanno l'area eseguiranno pure l'esecutivo e quindi l'alizzazione della piazza. Pisani, sul rifacimento delle facciate che tipo di intervento è stato realizzato? Allora, verrà realizzato un cappotto per la parte esterna, poi una tremizzatura sempre verso l'esterno con una realizzazione di un cappotto interno tra i paramenti delle murature. Pisani, ricordavamo, sono tanti gli interventi che l'Ater deve fare per manutentare il patrimonio edilizio che gestisce. È vero, noi abbiamo quasi 5.300 alloggi da gestire. Col PNRR abbiamo ottenuto 18 milioni di euro di finanziamenti, ne sono in corso un'altra 6 milioni di euro e ultimamente abbiamo fatto delle schede di progettazione per 43 milioni che abbiamo mandato alla Regione per dei fonti sempre a livello statale. Se effettivamente arriveranno questi finanziamenti avremmo intervenuto su quasi tutta la totalità del nostro patrimonio.